Ciao amiche e ciao amici, come farsi rispondere ai messaggi? Ci sono molte persone che messaggiano e poi non ricevono risposta e allora vanno in una sorta di crisi, iniziano a dire non mi vuole, non mi cerca, iniziano a prescriversi dei difetti. Allora, intanto bisogna tenere presente una cosa che devi capire prima di scrivere i messaggi a una persona che tipo di persona hai davanti, perlomeno su un punto fondamentale. Il punto è, questa persona qua che ho davanti è uno che ama essere inseguito o ama inseguire? Perché è evidente che se hai a che fare con una persona che lui vuole ricoprire il ruolo del gatto che rincorre, tu dovrai fare il topo che fugge, tu dovrai scappare, tra virgolette, il che dal punto di vista dei messaggi significa che devi mandare pochi. E quindi, se tu invece fossi una persona che hai la necessità di inseguire, poi ci sono persone che proprio hanno la necessità di inseguire, devi cercare di gestire questa tua caratteristica. Altrimenti otterrai l'effetto contrario, tu lo tempesterai di messaggi, ma anziché coinvolgerlo, questi messaggi lo decoinvolgeranno o la decoinvolgeranno. Questo vale sia per l'uomo che per la donna. E al tempo stesso, invece, se hai a che fare con una persona con la quale bisogna fare un po' più di pressing, dovrai mandargli un po' più di messaggi di quelli che ti manda lui. In modo tale, perché se ne mandi di meno, lo demotivi e lo spingi a non mandarne. Devi tenere presente, però, che questa tipologia di persone, che lui tende a scappare, vuole essere inseguito, ti manderà sempre un po' meno, un numero un po' inferiore di messaggi rispetto a quelli che manderai tu. Ma questo fa parte della sua caratteristica, questo non deve spaventarti. Quindi, la cosa importante è che, quindi capire. Come fare a capire? Beh, basta fare un test iniziale. Prova un attimino a, mandi due messaggi, messaggi, se lui ti ne risponde con tre, è probabile che voglia essere, che istintivamente è uno di quelli che vuole inseguire. Se tu ne mandi due e lui ti risponde con uno, è probabile che invece è uno di quelli che vuole scappare. Per cui, una volta che hai fatto il test, hai capito poi come fare a comportarti successivamente. Questo è molto importante. Dopodiché, dopo che hai fatto questa cosa, devi capire la qualità, il tipo di messaggi che devi mandare. Allora, il tipo di messaggi che devi mandare devono essere dei messaggi sempre che interessano un argomento della sua parte emotiva. Se, diciamo, che ne so, lui per dire, capisci che emotivamente è coinvolto dal lavoro, perché in qualche modo lo coinvolge, eccetera, ha paura di essere, allora manderai un messaggio, allora, come va l'azienda? Siete ancora aperti? aumenta la crisi? Qualcosa del genere, in modo da andare a toccare un punto sensibile. Il discorso è quello, alla persona non ne frega niente di te, interessa di loro stessi, e delle loro esigenze emotive. Quindi, devi andare a mandare un messaggio che vada a toccare un loro punto sensibile, non di tuo. Noi spesso sbagliamo, molte persone sbagliano, perché mandano messaggi dove proiettano le loro esigenze, invece, e non ti risponderà nessuno, perché non ne frega niente, non coinvolge. Se tu vuoi coinvolgere, devi capire quali sono i punti sensibili dell'altra persona, e mandare un messaggio che va a toccare i punti sensibili. Allora vedrai che la risposta arriverà, e inizierà il processo di coinvolgimento. Bene, per questo video è tutto, se ti iscrivi al canale, avrai la possibilità di fare una domanda, e riceverai un video di risposta. In più, se questo video ti è piaciuto, puoi condividerlo con tutti i tuoi amici, e mettere un mi piace. Ciao!